L'Osservatorio Indipendente sull'Acqua del Gran Sasso si confronta a Teramo, Corregione, Parco Gran Sasso Laga, Laboratori e Strada dei Parchi. Quanto è accaduto dal 2002 ad oggi, secondo l'Osservatorio, mette in discussione la relazione di fiducia tra cittadini e organizzazioni sociali, intermedie da un lato e istituzioni preposte a controllare e garantire la potabilità dell'acqua dall'altro. Siamo in una fase molto strana di questa vicenda, dove c'è un grande rimpallo di responsabilità e un grande negare l'evidenza. Stiamo cercando, parlando direttamente con i soggetti coinvolti, stiamo cercando di metterli in relazione per cercare di acquisire informazioni. Abbiamo già preparato un primo documento, possiamo chiamarlo un piccolo dossier, su quello che è accaduto, quello che è stato fatto in passato, su quello che è accaduto dal 2002 a oggi, per ripercorrendo un po' tutte le fasi dei lavori, di commissariamento e di spesa pubblica. E chiederemo conto di alcune situazioni, di alcune contraddizioni che abbiamo individuato. E cercheremo anche di comprendere i primi passi per cercare di risolvere i problemi, che prima di tutto sono di comunicazione fra gli enti e di organizzazione fra tutti gli enti coinvolti in questa situazione. Dal canto suo, Laruzzo Reti ha inviato a tutti i cittadini, insieme alle ultime bollette, una lettera che invita a difendere insieme l'acqua del Gran Sasso, la nostra risorsa più preziosa. Scrive Laruzzo ai Terramani. Siamo convinti che la convivenza dei tre sistemi, captazione, autostrada e laboratori, sia possibile e per questo auspichiamo un intervento sinergico di tutte le parti interessate per il miglioramento degli standard di sicurezza. Allo stesso tempo assicuriamo che faremo la nostra parte di più e meglio per garantire ogni giorno la trasparenza dei dati sulla qualità dell'acqua e il monitoraggio in tempo reale delle sorgenti e delle fonti di approvvigionamento.